Intanto io sono assolutamente convinto che l'approccio olistico, un approccio che sia meno settoriale possibile, quando parliamo di ambiente, quando dobbiamo guardare anche agli altri temi, quando parliamo di casa dobbiamo guardare anche i temi ambientali, quando parliamo di sviluppo e di crescita di una città come Milano, dobbiamo guardare anche ai suoi quartieri e alle situazioni magari più critiche ed è la sfida più complessa che abbiamo di fronte, cioè quella di ragionare e di delineare strategie in modo trasversale e integrato tra queste. Mi rendo conto che è facile dirlo e che è molto difficile farlo, soprattutto per il fatto che le città italiane in particolare e secondo me le grandi città in questo momento vivono in una situazione di ordinamento quadro legislativo e quadro politico generale che non guarda in modo sufficiente alla complessità e al ruolo che le città possono svolgere per il paese anche a supporto degli altri contesti più critici. Le grandi città sono il motore del paese e senza altro le porte rispetto all'Europa, rispetto al contesto internazionale.